Verrà il tempo delle domande e delle risposte, ora c'è il dolore da far fluire, una tragedia da metabolizzare. Per i familiari di Patrizia, Bianca e Cristian un fardello che le accompagnerà per tutta la vita, ma è inevitabile che gli interrogativi ci siano già adesso e qualcuno deve dare una risposta, anche solo per allontanare definitivamente il sospetto che qualcosa nella macchina dei soccorsi non abbia funzionato come si deve. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati, che mira appunto a fare solo chiarezza. Il ministro della protezione civile Nello Musumeci ha chiesto al prefetto di Udine Domenico Lione di preparare una dettagliata relazione sulle prime attività di intervento, dopo l'allarme lanciato dai tre ragazzi travolti dalla piena. Atti dovuti, non certo stimolati dalle polemiche alimentate sui social, questo è bene sottolinearlo. Il primo atto dei magistrati è stata la richiesta di acquisizione dei tabulati relativi alle chiamate di aiuto. L'iniziativa della procura mira anche a verificare se tra i vari enti coinvolti nei soccorsi ci siano stati problemi di procedure. Si discute se invece di attivare l'elicottero dei vigili del fuoco di Venezia non fosse più opportuno attivare quello del soccorso sanitario della Sores del fluo di Venezia Giulia con un tecnico del soccorso alpino a bordo. Fare chiarezza è quanto mai opportuno, lo si deve a Patrizia, Bianca e Cristian, alle famiglie e dai soccorritori che hanno fatto il possibile e anche di più.